L'industria tessile è tornata ad assumere, servono figure qualificate, ma l'offerta è scarsa. Così Confindustria Toscana Nord ha promosso il progetto di modo al mio futuro, per avvicinare gli studenti al mondo del manifatturiero. Le nostre aziende stanno cercando figure tecniche specializzate, per ammettere come capireparto, per i tessili, per i tessili, per i tessili. Molto importante è la parte chimica, perché sulla parte chimica, soprattutto chimica tintorea, noi abbiamo bisogno di molte figure nel nostro settore. E soprattutto anche sul controllo di gestione, nelle dispositori, figure che sappiano usare il computer, sappiano inserire dati, ma anche fare controllo di gestione sulla produzione. Noi ci aspettiamo dai ragazzi che ci sia una formazione generale di livello, ma che abbiano anche predisposizioni tecniche per poter imparare anche a lavorare in settore come quello tessile. Questa mattina la firma dell'accordo, siglato con l'Istituto Buzzi e l'Istituto Artisco Brunelleschi, in cui si regolamenta l'alternanza scuola-lavoro, si stabiliscono incontri fra insegnanti e imprenditori, creando così una rete fra il mondo produttivo e la scuola. Il protocollo è siglato proprio con queste due scuole importanti per il territorio per definire le competenze di cui hanno bisogno le aziende del territorio. La crisi quindi sembra essere passata e lo dimostrano le richieste che arrivano alle segreterie delle due scuole. I nostri diplomati del tessile sono spesso già prenotati prima ancora del diploma, perché sono relativamente pochi rispetto alle esigenze del mondo del lavoro. L'attenza scuola-lavoro all'iscia artistico è già praticata da tempo e abbiamo contatti con diverse aziende che ci chiedono ragazzi specializzati in questo settore. La moda, visto anche questa iniziativa di Confindustria, è un settore che può offrire possibilità.